Ormai da tempo vivono soli e solo grazie alla bontà d'animo della vicina di casa la pappa non manca mai. Arriva da Offlag alla storia di una quindicina di gatti domestici in cerca più che di una casa, di una vera e propria famiglia. La situazione di questi animali è stata presa a cuore dall'amministrazione comunale del paese della bassa Bresciana che sta lanciando appelli affinché qualcuno si possa prendere cura di loro. Noi stiamo cercando famiglia questi gatti perché effettivamente sono messi in una condizione non dico pietosa però insomma poverini sono qui soli. Fortunatamente c'è la vicina di casa di questi signori che si sta occupando però noi effettivamente vogliamo trovargli una casa perché messi così non piacciono. Cioè non piacciono a me che sono davanti agli animali e non piacciono i vicini di casa perché creano, non dico disturbo, però comunque sono degli animali che hanno bisogno di essere accolti in una famiglia. L'alternativa sarebbe quella di creare una colonia felina, soluzione che però il comune preferirebbe evitare per il bene dei mici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire mettere una ciotola su una strada, una ciotola d'acqua, una ciotola di cibo, riempirla tutti i giorni, sterilizzarli che è la cosa naturalmente principale e comunque verrebbe fatta né più né meno. Poi il comune in ogni caso se ne dovrebbe occupare però lasciare questi mici sulla strada insomma non è bello. Ecco detto questo naturalmente il comune se non trova nessuno che li vuole accudire naturalmente il comune si darà a fare in tutti i modi per riuscire a risolvere il problema. Noi cerchiamo davvero di aiutare questi animali ad avere una vita migliore. Vita migliore però che su una strada naturalmente non sarebbe tale. ATS naturalmente si rende disponibile a sterilizzare questi gatti, comunque ci sarebbe in ogni caso un sostegno da parte del comune.